Graziano, buongiorno! Senti, so che hai un'offerta per mangiare il pesce a pranzo, un menù lunch. Sì, ora è da 4-5 mesi che abbiamo messo questo menù qui perché la gente non è più come una volta che mangia tre piatti ma che vogliono mangiare un piatto massimo due a buon prezzo e lo va cucinato il meglio possibile e noi abbiamo fatto questo menù lunch sinceramente siamo contenti si sta riscontrando un buon lavoro si fa 10 euro a piatto sia che prende un antipasto che prenda un primo che prenda un secondo sono sempre 10 euro più c'è un bicchier di vino e acqua minerale questo pezzo qui ben fatto per tutta la settimana solamente a pranzo dal lunedì al sabato. Io guardavo però il menù perché uno si aspetta magari qualcosina un po' fatta al volo eccetera invece c'è dei piatti, una frittura vista di calamari, gambe, le fiori di zucca, le lasagnette al forno con verdure esagù di pesce. Sì è tutta roba che si cerca di fare nel menù c'è più pesce che carne perché siamo un ristorante di pesce però c'è anche alcuni privati di carne tipo ora ci sono funghi, c'è il tartufo nero, a volte si fa dei risotti agli asparagi oppure queste cose qui, però la maggior parte è pesce, si fa dall'orata alla braccia, dalla tagliata di tonno a volte ci mettiamo anche il fritto misto, insomma si fa parecchie cose, si cerca di variare tutti i giorni dare una scelta abbastanza ampia perché facciamo quattro primi, quattro secondi, quattro antipasti e questo è il nostro menù lancio che facciamo, poi se uno viene e dice volevo mangiare la catalana gli si dà anche la catalana fuori menù, non c'è problema. Senti a me è venuto appetito, sicché io ti ordinerei i tagliolini al tartufo e poi, ma sono indeciso, qui da scelte veramente ampia, calamari pesce spade e verdure grigliate. Questo è un piatto leggero che non fa male, il tartufo è buono perché è il peloniero di norcia e con 20 euro si mangia due piatti. Perfetto, allora se per favore mi porti la comanda in cucina, io ti saluto, ciao Graziani. Ciao.